buongiorno signori bentornati su cruzader kings 3 oggi parte una mini serie semi improvvisata che ha come unico scopo il fare da tappabucchi per un paio di giorni visto che sono indisposto a sistemare il nuovo pitch we quindi suggeritomi da un abbonato ci lanciamo nell'estremo sud dell'africa che in questo caso coincide con il centro ovest visto che però la mappa finisce qui quindi prenderemo le redini del benin e tenteremo di situare le situe situe che non sono del tutto chiare ragazzi perché alla fine mi sto ancora una volta come abbiamo fatto per l'islanda basando sulla rice quindi ha un sacco di decisioni flavor personale questa zona e lo vedremo man mano non mi sono ancora guardato molto ho unito il suggerimento al fatto che c'era qualcosa sulla rice e adesso sì facciamo facciamo questa cosa qua il benin poi allora vi spiego due tre cose partiamo nel 1066 perché l'africa non è proprio sinonimo di innovazione quindi almeno nel 1066 ha già qualche innovazione che si difetta ancora praticamente di tutta la prima questa roba qui non ce l'ha quello non ce l'ha e qui ecco dobbiamo ancora dobbiamo ancora arrivarci però però è sempre meglio che l'800 qualcosa partiamo con un vecchio di 61 anni che non so quanto durerà però almeno ha già un erede e mi piace che ha 19 in intrigo posso no però aspetta cosa cazzo appena visto paziente ok paziente paziente buono se era tipo uno che si fa venire rimorso e allora non era non era il massimo comunque alla fine dei conti cos'è che mi ha attirato anche a parte il flavor delle varie decisioni che hai fatto vedere prima devo dire che la cultura e la religione di questa nazione qua mi piace un sacco in questa zona qui c'è un'unica religione che ok va bene l'horizon poi in verità c'è anche l'odinalan qualcosa pacifismo sono pacifisti no questo invece guardate che più bello abbiamo esoteri esotericismo che i bambini possono guadagnare l'earning focus education figate dell'earning rincarnazione più difficili da situare però i bambini hanno possibilità di essere considerati la rincarnazione dei loro antenati magari magari c'è qualcosa di figo e poi adorare gli antenati insomma tutto una cosa con la gente schiatta e tu l'adori lo stesso non lo so mi piace figo poi abbiamo anche culturalmente parochialismo non lo so solita roba della città altra roba per la costruzione della città e anche più forte a quanto pare riusciamo ad arroccarci bene nella giungla c'è un più non più due bush hunting perché immagino venga buono qua nella giungla eccetera eccetera ma quello che mi interessava che poi è il flavor è questo clean buzzed craft guilds che ci dà possibilità di craftare un po di sito e fare robe interessanti in quel in quel senso qua e in effetti noi abbiamo un debuff che è non incoronato dal oni questo regnante che rispetta questa fede non è stato incoronato dal oni adesso io ho visto che il oni al momento è questo qua non lo so lui c'ha il buff oni of il ife che come vedete non è il massimo con lo steel scheme eccetera eccetera però dà prestigio pietà vassa l'opinion in generale eccetera eccetera io tenterò anche di spandermi un pochino in questa zona e di esplorare queste sito qua e vedere un po di prenderci anche noi una bella maschera adesso non so se a 70 anni il caro hen mi hen riuscirà a fare qualcosa però suo figlio vediamo di farlo situare adesso io cerco di capire un attimo cosa farne della mia vita e di mettere in potremmo anche andare a chiedere subito a sto tizio di incoronarci però non so se voglio farlo subito il fatto che questo è proprio un debuff cioè se tu non ti fai incoronare al contrario perdi prestigio perdi pietà la gente stai sul cazzo e gg devo ancora raccapezzarmi quindi si parte però al pochino col senno di poi forse non ho fatto un'azione troppo oculata però analizzando la situazione al momento mi sono accorto di essere il penultimo degli stronzi e per non diventare l'ultimo degli stronzi ho deciso di attaccare l'attuale ultimo degli stronzi che però voleva essere proprio l'oni e non credo di stagli simpatico nota positiva abbiamo vinto i leif quindi sì l'ho fatta vedere perché è stata una guerra veramente triste non c'erano neanche 2000 uomini se sommiamo i due eserciti per dire sono detto lì ho conquistato ho battuto una battaglia vittoria il che però ci pone avanti un piccolo problema cioè io volevo togliere questo debuff qua che essere incoronato da l'oni ma se l'oni è quello che ho appena picchiato non so quanto avrà voglia di incoronarmi fatto sta che c'è la decisione che dice l'oni di ife è considerato la figura spirituale secolare autorità spirituale secolare più grande in tutto lo Yorubaland e anche oltre per guadagnarmi il rispetto dei miei vassali e legittimizzare il mio regno devo andare a richiedere di essere incoronato con questa beaded crown che adesso non mi viene la traduzione comunque è un incoronamento dall'oni il problema è che ora ife lo posseggo io e l'oni non è più a ife non lo so non lo so se le cose andranno bene dovrò andare là che non sarà un problema visto che là è molto qua e farmi incoronare ora io faccio bisogna fargli anche un regalo perché se l'oni trova che il regalo sia adeguato ti daranno la situa ok se volete leggervi il contesto storico io me lo so letto per gli affari miei adesso non starò qua a leggere perché devo farla breve interessante a strong hook on me oh che bello vedo che modest sacrifice ho giusto 50 monete sono sicuro che quella la gli starà bene se io invece lasciassi un attimino perdere tutta questa faccenda e mettessi via un po' di soldini per consort spendi 100 una concubin 100 io non ho 100 però se trovassi 100 monete 100 monete sono tante monete sono tons of monete allora sì in effetti col senno di poi non è stato una grande forse attaccarlo e farlo incazzare metti in caso che c'entra qualcosa con la sua opinione io facciamo che lo svegliamo facciamo che ci teniamo questo debuff ancora per un po' e io è come se non avessi fatto questo spezzone di video anche se lo lascerò ponderando la situazione visto che l'oni è leggermente indisposto nei miei confronti e io devo aumentare il controllo delle varie zone forse è il caso di spendere i dindini nella seconda opzione ho visto in verità costa 50 quindi tanto vale spenderli organizzare una gilda di artigiani il benin è una grande dinastia chiaramente ma potrebbe essere ancora più grande per rinforzare il nostro potere noi organizzeremo formalmente gli artigiani che vivono nei nostri territori in una gilda di artigiani reale integreremo già i network sociali che esistevano nella nostra struttura politica e c'è un beneficio generale di situe la tua dinastia riceverà un modificatore dipende dal tipo di craft guild che organizzi il che ti darà anche la possibilità di prendere decisioni per commissionare dei lavori della craft guild bla 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 contesto storico guadriamo 100 renew interessante se questa cosa qua si può spammare è veramente una figata comunque e tutti i membri guadagnano 50 tutti i membri siamo in 2 vai faccio su... non la faccio subito perché only if your cult is la... che palla questo cosa mi da io avrei voluto vedere almeno i buff popular opinion 5 beat maker eccola lì le perline forse sono i beat in quel senso lì oh cazzo questo è buona ma aerosmith oh me lo fa vedere fammelo vedere fammelo vedere army gold maintenance bello però meno 10% oppure questa che ci da vassal più 5 no 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 a me piace questo a me piace questo qua di fare i beats le palline ci da montry renew e court grandeur corta che non ho al momento però il renew fa sempre comodo per quello quindi per la gloria della nostra dinastia stia orca troia quanto c'è da leggere riassunto della situa è che io ayapada capo del benin ho preso tutti questi begli artigiani gli ho dato un posto ho organizzato questa organizzazione qua di fonditori di perline chiamandole beat maker produttori di perline salta fuori l'inventiva qua l'originalità dei nomi e vuoi mica anche che la nostra cultura adora queste cazzo di perline e quindi tutti ne trarranno be edificio loro le faranno daranno lavoro io guadagnerò perline tutti vedranno le mie perline perline per tutti la nostra dinastia diventa sempre più grande 100 renew abbiamo il buff che avevo detto prima che ci da sempre a renew tutto renew e un po' di situa ora questo buff denoto che ci appena o meglio questa decisione ci ha appena dato la prima botta per la nostra situa non c'è molto di nuovo tranne patronage però non credo sia adeguato al momento è tutta una roba per le città io fino a quando non escono le repubbliche sta roba nadoco e andremo con gloria perché gloria perché ci da prestigio knights costruito di mercenari eccetera eccetera poi quando saremo regno tutta sta roba qua di avere sempre più prestigio secondo me verrà utile per essere molto prestigiosi a quanto pare tra l'altro se non ricordo male se noi siamo siamo situatori esatto noi paghiamo le situe col prestigio è veri glori per ora niente di che ma già quello dopo è già più più situoso delle situe bene quindi ora non mi aspetta che non mi aspetta non mi aspetta che aspettare ora aspetto che smettiamo di stare sulle palle al papa dell'Africa di questa zona dell'Africa me lo penso e che venga sul controllo e dei soldi sembra che i pacifisti che abbiamo alla nostra destra di quella zona qua vogliano fare un accordo mandano un messaggero che ci dice che ci porta le come fanno nessuna battuta questa in inglese vabbè le le noci sacre di cola ok noci sacre di cola cerimonia formale giuramento di pace tra le nostre cose entriamo in trusse io non me lo volevo stracagare di striscio questo mi da prestigio pietà per dieci anni a buon rendere signora sì ci stanno ok penso che l'abbiamo vinta ah già non c'è anche il preto il marisciallo è il nostro marisciallo è stato bravo comunque ci siamo appena difesi dal abbiamo accatturato anche 57 monete dal riding di questi stronzi il che è positivo ma mi fa venire in mente che forse dovremmo prendere anche un dottore e forse ho anche i soldi per pagarlo adesso comunque è bella sta storia dei pacifisti che possono fare la pace con il sito non so quanto gli costa però tecnicamente possono si fanno il loro piccolo regnetto o ducato già il loro ducato fa un po' meno schifo del nostro igbolland e poi dopo si fanno tutte le sito tipo amicizie intorno e loro si paraculano così sempre gaccettino ovviamente gli altri ehe boy i vetrai di ife sempre ife però stanno andando veramente bene ultimamente e la città è diventata uno dei centri principali di produzione dei vetri dell'Africa il vetro che viene prodotto in particolare le cazzo di perline quando diamo mattine fucking perline sono in alta richiesta un po' ovunque nella regione a vista che hanno significato religioso e culturale questo boom economico dell'industria sicuramente aiuterà la regione il che ci da per 10 anni un 3% di holding taxes e sviluppo puttana che va veramente buono non so se spostare la mia capitale direttamente lì eeeh posso bestimmiare porca troia va bene allora allora io ho 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 65 anni ho già sfornato due figli uno si chiama Obano sarò onesto avrei voluto chiamare Ibano non vi offendete però e poi Emwingare Emwingare non lo so come si pronuncia comunque tant'è quindi vuol dire che qualsiasi cosa conquisterò comunque verrà splittata fra i vari scusate al benevole hai appada mi è venine io tizio qui devo leccare le palle penso che Omnoblobobo ti servirà bene come concubina la fareste entrare nel tuo letto? maaaaa ma io vuoi ammazzarmi tu? mmmm 20 opinion eeeh certo che la faccio entrare nel mio letto vai tranquillo vai tranquillo entra nel mio letto non ti preoccupare tra l'altro down debuff il fatto che non abbiamo concubine o è solo una cosa extra no l'unico problema è quel cazzo di cosa qua ok 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 in verità molto ok ora che ci penso se tutta questa faccenda si basa sopra i tizi noi potremmo tecnicamente attaccarli 1600 sono un fottio di uomini 1000 non sono un fottio di uomini e tu hai il mio stesso cappello che cazzo bisogna andare piano piano stupidamente questo territorio qua non è del nostro regno per qualche motivo è del regno a fianco poi dicono che noi dell'ovest abbiamo tracciato i confini e la cazzo di cane c'è un fiume palesemente che divide le regioni stai di là e devo ponderare la situazione allora stiamo abbastanza simpatici di nuovo aspetta continuo a sguagliarlo che quel più 24 ci sta andando da dio non so se sta andando a cozzare tutta sta faccenda del della situa a noi però servono soldati serve anche che prendo il controllo di sta regione qua per tutto quello che ne arriva tra l'altro chiedetelo humankind mi coglioni ifa è proprio una bella città potrebbe diventare la mia capità non sarebbe mica ma sapete che lo faccio subita olè e ora siamo noi che comandiamo hai capito hai capito potrei usurpargli il titolo al papa sono sicuro che questo lo renderà più felice nei nostri confronti so già cosa starete pensando quando farò quello che sto per fare però sappiate che tanto le cose è così che devono andare allora allora teniamo conto della mia età 68 anni e a quanto pare solo figli maschi e quanti cazzo ne volete tra l'altro teniamo conto che il nostro papa sta venendo raidato e che ora andrà a difendersi teniamo anche conto che il mio tizio del consiglio il cancello era riuscito a rimuovere la trousse che c'è fra di noi tanto vale provare a prendersi qualcos'altro voglio dire quindi dichiariamo guerra tanto non diventeremo mai amici basta aspettare al prossimo giro e ci prendiamo lgbomamina insomma ci siamo capiti quindi guerra ma se io cosa vi devo dire cioè capito che è il papa e tutto il resto però ci lascia io entro qui adesso tu non far cazzate vai a combattere contro quelli che già volevi attaccare e lui fa cazzate vedete un po' se lo merita di essere raidato no cambiato idea adesso torno indietro e non so bene che cazzo stia facendo però voglio andare a prendere il giro più lontano intanto io finisco qua là poi c'è un altro che raidato qua tutti raidano mi sono accorto anch'io posso raidare in effetti però erano già tutti raidati prima quindi non non ho fatto niente quindi cosa faccio prendo lì conquisto la città spero che perda il titolo spero di usurparglielo spero di prenderlo io renderlo principale poi il mio secondo titolo è con l'elettivo e quindi non far ereditare niente ai miei secondi geniti eccetera eccetera tutto questo per fare quello però mi servono abbastanza soldi per ora siamo a 106 mi sa che ne serviranno voglio dire cazzate ho preso il talento che riduce del 20% adesso non mi ricordo quanto è il 20% penso ne serviranno almeno 200 ecco vediamo se riusciamo a difenderci lì prima della fine dei tempi penso proprio di sì ancora una volta caro papa ci ritroviamo piuttosto che chiamarlo onimi viene a chiamarlo papa ci ritroviamo in battaglia 98% e viene brutto da dire c'è da darsi ancora una manata in faccia cosa ti devo dire lui mi ha pure regalato una cucubina eh questa è la vita ecco qua ultimo giro no no fermo fermo il massacro prima che finisca la roba so it be disband perfetto perfetto ora tecnicamente tu dovresti perdere il titolo e diventare un conte fra un po' magari magari non adesso però questo dovrei riuscire a prenderlo io e più che altro non posso usurpare perché usurpare costa comunque 250 io ho il talento per creare quindi se quello se ne va a prostitute noi possiamo crearlo non è che ha ereditiera c'è c'è pure quello lì oppure questo c'ha c'ha la situa no solo quello sotto c'ha il come cazzo si chiama l'elettivo ecco no questo qua sarà splittato dai fratellini però ancora questo pugnala sapete no è così che va la vita e così ci lascia Ayapada Hen Mi Hen il nostro primo regnante di questa serie qua abbandonato lo suo spoglio è mortale 74 anni è morto di vecchiaia vero diplomatico non c'era discussione che non poteva risolvere pacificamente va sul suo figlio che è un uomo che sa aspettare tagliamo la corta così allora grazie al mio mastermind plan figli di puttana devo aver sbagliato qualcosina nel mastermind plan sono rimasto con una sola cazzo di di città perché ho sbagliato evidentemente qualcosa quindi penso che dovremmo serial killer found oh molto bene e i miei fratellini si sono tutti belli divisi tutte le situazioni allora a me quello che interessa di più è avere benino mi pare anche se questo qua pure non è male allora iniziamo dove che c'è ecco qua ho il 7% non ho mica io a destrarlo quello lì allora proviamo andrà il gb cosa questo qua il 7% oh mi stai trollando dimmi che questo oh ok questa è una tortura che non è il massimo ma non è neanche brutto qua agent options e intrigo più 3 io direi che andiamo con school druggery selezioniamo già questo qua dovrebbe darci un pochino e a me fa strano che io non possa ammazzare questi bambini qua come mai è solo il 27% ok adesso ho il 30 ma perché è così poco forse perché non abbiamo uno spy master degno mia moglie potrebbe fare lo spy master in quel senso qua allora mettiamo questo qui meno 25 prima roba sguegliamolo e portiamo la nostra parte è un po' infame quello che devo fare ma ragazzi la vita ce la vi wow fanno tutti schifo assegniamo sto tizio qua con 8 la tizia con 9 che tra l'altro non mi pare avesse pure il cancro questo ha pure un uco lei tutto e te insomma una vita felice e le lezioni per quel titolo là che strano che è però non l'ha dato a me o l'ha dato a me l'ha dato a me il titolo e io ho già capito che è successo qua io sono duca di quel posto lì ma ovviamente non ho la città che grande cazzata posso fare revoke title no perché mi serve di avere la high tribal però per adesso non possiamo permetterci assolutamente wow wow dovevo spendere il prestigio ho fatto un paio di cazzate con quel vecchio di prima mi attacco a sta ceppa sta ceppa allora noi tecnicamente già stiamo situando due tizie a me fa strano che non posso seccare vabbè inizio inizio col voler seccare il primo comunque sia vediamo vediamo non mi guardate personal scheme sway quello e mazzare quello non abbiamo agenti che funzionano per seccarli sti cazzo di bambini anche così contrarriamo al 40% ah è inutile che vita che brutta allora mi studio un piano buono meno uno fuori dalle palle fratellino eh sono bambini si perdono nella foresta cosa vi devo dire oh ce lo siamo ripreso ovviamente è l'unico posto che non ha nessuna cazzo di costruzione però almeno qualcosina riusciamo a farci rientrare allora non è una posizione molto comoda la nostra nel senso che io rivorrei Benin ma il fatto di di non avere un grand scheme bisogna bisogna aspettare ecco bisogna aspettare di di ciucciarsi un pochino più di esperienza nel nostro ambito tra l'altro in due secondi che ho preso in mano il personaggio siamo passati ad essere anche obesi non so se poi l'abbiamo riperso del coso e lunatici perché perché no un fratello pazzo che ammazza i fratellini ci sta eh Orun Mian non riuscirò mai a tenere in mente i nomi di queste persone qua ora la situa è sempre quella fai merenda con nutella tu amico mio hai fatto qualcosa che non va bene dobbiamo aspettare o che il pop ha schiatti e vada su quest'altro che comunque sia non è che io gli stia molto simpatico oppure boys non so come agire nel senso che noi abbiamo 121 monete potremo ma sapete che roba andiamo richiediamo l'incoronazione e questa volta una consorte ci costa 100 ma io ci trasto appena ho ricevuto la buona notizia che l'oni ha accettato il mio regalo verso di lui sono andato a Ife che è la mia città la mia capitale per farmi incoronare e legittimizzare alla cerimonia sono stato lì in ginocchio davanti a lui ha piazzato le perline sacre sono la mia testa se vai ste cazzo di perline e dopo che mi sono alzato in piedi ho promesso di proteggere e salvaguardare i miei vassali onorare gli antenati fare un sacrificio annuale questo non avevamo concordato però prima pezzo di merda non so se i soldi per farlo alla shrine di Odudua e proteggere e mantenere le sacre shrine che adesso non mi viene in italiano cosa sono I feel sento sento the aze di Odudua che scorre attraverso di me inizio un viaggio a Ife per ricevere la corona e mi toglie quella cosa lì ok 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 pensavo inizia un trip mentale già sono pazzo bono mi ha tolto la situa e penso che siano queste le perline sembra non è uguale al cappellino che avevo prima è un cappellino un pochino più carino che mi fa sanguinare un po' meno la situa del prestigio tra l'altro mi ha tolto un po' prestigio ok ok ridai al papa Ife è interessante questa scelta perché vuol dire che noi dovremmo spostarci l'intorno oppure oppure no questo mi darebbe mille pietà è proprio come un papa te io quel cazzo che glielo ridò adesso Ife è molto importante per me poi in futuro lo vedremo perdi peso sono ancora obeso direi che con i soldi che abbiamo non posso farci mica molto la situazione non è delle migliori comunque non ho neanche idea di quanto verrà fuori la prima puntata ma ci siamo espansi un pochino non so per quale motivo abbiamo rotto il cazzo al papa tutto il tempo che rivorrebbe la sua città ma non per questo non ci ha incoronato e quindi ha fatto la cosa giusta quindi onora quest'uomo comunque sia che dopo aver perso due città tra cui la capitale più importante mi ha comunque tra l'altro io il viaggio lo devo ancora fare per ricevere le perlina a quanto pare ok 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 vedremo nella prossima puntata cosa comporterà questo viaggio se poi comporterà veramente qualcosa io ragazzi intanto vi saluto alla prossima veloce puntata ciaoone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti